ciao a tutti anime bentornati qui sul mio canale su quinta dimensione letture con questa serie dei sette raggi e cinque raggi occulti oggi ci occuperemo appunto del settimo raggio che è il raggio viola quindi faremo tutti i decreti del raggio viola suoi maestri ascesi madri divine angeli arcangeli elohim eccetera vi illustrerò quali sono le pietre di oggi gli aromi le virtù le caratteristiche e le note tonali che vi ricordo immediatamente proprio adesso di andare a vedere su questo canale sempre c'è la playlist delle note tonali di ogni raggio quindi andate a vedere anche nella descrizione del video o tra le playlist di questo canale la proprio il video delle note tonali del settimo raggio viola che corrisponde appunto al giorno sabato poi faremo il prossimo video i cinque raggi occulti e ne parleremo insieme che sono più recenti questi sette raggi sono appunto le sette sfere di dio sono i sette colori e sono anche chiamate le sette fiamme sacre ognuna ovviamente ha una sua caratteristica tutto un suo percorso da fare e ci aiutano comunque ad essere più in connessione con i maestri e con tanti benefici che possiamo avere iniziando proprio un percorso insieme ma anche voi da soli o li potete fare anche con me insieme ai raggi ricordo anche che per motivi di spazio tutti i decreti scritti che andremo a leggere a breve non saranno sotto questo video ce ne saranno solo un po' quelli che c'entrano poi dovete andare sul sito web che trovate sempre tutto in descrizione il link diretto per tutta la lista completa di questi decreti io inizio sempre ricordandovi il materiale che sto usando per questi video dei sette raggi sono dell'editrice italica in particolar modo li prendo da questi libri uno è questo qui le meditazioni quotidiane della collezione metafisica e l'altro è i sette raggi cinque raggi occulti sempre della collezione metafisica della editrice italica quindi vi invito caldamente proprio a acquistarli chi volesse proprio approfondire ancora di più perché io in un video non posso dire tutto tutto quanto tutto quello che c'è scritto in un libro dovrei leggervi un libro che tra l'altro è anche coperto da copyright quindi comunque si prendono delle parti essenziali che sono già pubbliche per tutti ve le ricordo le facciamo insieme poi chi veramente sente di dover fare un approfondimento accurato da solo da sola di questi argomenti li faccia acquistando poi il materiale poi per aiutarvi sempre nella comprensione dei concetti soprattutto della metafisica abbiamo questi due volumi che molti mi hanno detto già hanno acquistato molto bene chi ancora non l'avesse fatto lo consiglio molto sono il volume 1 e il volume 2 che contiene due volumi primo e due volumi l'altro quindi in realtà sono quattro insomma ecco la metafisica quattro in uno di conny mendes sempre dell'editrice italica e sono proprio delle raccolte di conny mendes che è scomparso ovviamente adesso ma ci ha lasciato in dotazione queste queste meravigliose informazioni sono dei best seller questi è metafisica quattro in uno che raggruppano proprio tutti i concetti della metafisica ma anche il nostro amato telos la nostra amata telos con la nostra attre tanto amata aurelia luis jones su telos 4 si parla anche di questo delle sette fiamme sacre viste in maniera un po diversa però le meditazioni che ci sono su telos 4 le invocazioni ai raggi e alla fiamma sono comunque valide anche se non sempre corrispondono a quelle della metafisica però il concetto del colore dell'energia della guarigione che potremmo avere da quel raggio è lo stesso allora adesso vi elenco intanto prima di iniziare chi sono gli esseri di oggi di questo raggio la nota tonale eccetera eccetera quindi partiamo con il settimo raggio vi ricordo ancora di andare a vedere la descrizione del video per tutti i dettagli che poi sarete riportati anche al sito web dove ci sono i decreti completi allora appunto la settima sfera il settimo raggio che è il colore violetto nelle sue diverse gamme ovviamente a volte è più viola chiaro a volte più viola scuro eccetera le caratteristiche principali la libertà la liberazione la trasmutazione la misericordia il perdono ordine cerimoniale la magia il ritmo la sintesi perseveranza coraggio autosufficienza e fiducia in se stessi cortesia accuratezza nei particolari la praticità e l'esoterismo il chakra corrispondente è il chakra sacrale il giorno della settimana in cui è più attivo è il sabato il chohan che in italiano chiamiamo il direttore proprio di questo raggio è il maestro acceso san germain gli elohim sono arcturus e diana gli arcangeli di questo raggio violetto sono zachiel e ametista gli aromi sono la lavanda e la violetta le pietre di oggi per questo raggio sono l'ametista la tormalina nera il violano e il porfirio sono due un po' più difficili da trovare nota musicale il do allora perché vi dico queste cose perché potete connettervi maggiormente con questo raggio utilizzando diciamo tutto quanto quello che avete a disposizione gli aromi le pietre potete per essere più in connessione con questo raggio vestirvi di questo colore di violetto anche non completamente certo ma anche semplicemente con un particolare un bel foulard la maglietta insomma qualcosa che avete addosso una collana con l'ametista per esempio no per quanto riguarda le pietre poi abbiamo anche la tormalina nera questo è un cristallo andara 5d che si chiama proprio lilac shekinach proprio in ebraico abbiamo l'ametista appunto in diverse forme sia grezza che quella burattata lucidata eccetera la tormalina nera anche che si conosce molto bene tutto ciò che viola la lavanda per esempio per esempio ispirare oggi questo aroma è meglio di un altro giorno per esempio no potete farlo con gli oli essenziali queste sono cose importanti da fare in quel giorno per essere più connessi usare anche l'aurasoma chi la usa chi la fa questo metodo stupendo anche questo è molto valido per esempio e soprattutto ascoltare le note tonali perché? perché vi mette proprio in connessione molto molto con il discorso del raggio e la nota musicale è proprio il do quella del settimo raggio va bene? quindi ricordatevi questi particolari perché tanti dicono ma cosa significa? significa che questo giorno funzionano di più vi connettono di più queste cose queste pietre questi aromi vestirvi di questo colore ascoltare queste queste musiche piuttosto che altre questo significa essere più in connessione allora San Germain che è proprio il direttore del settimo raggio è proprio il grande signore della fiamma violetta per la terra è proprio l'avatar dell'era dell'acquario quella che è iniziata adesso dove ci troviamo? poi abbiamo le sue note tonali che le trovate nella playlist è molto conosciuto è molto lungo il discorso di San Germain quindi andatevelo proprio anche a cercare a cercare a leggere su questo libro ma anche su altri libri che vi ho fatto vedere in altri video sui decreti di San Germain sulla storia di San Germain insomma ci sono tantissime informazioni su San Germain che viene proprio da Urano venne sulla terra con le prime razze proprio come spirito guardiano ha avuto un sacco di incarnazioni San Germain conosciuto c'è chi l'ha visto chi se lo ricorda come personaggio che non invecchiava mai molto interessante la storia del conte di San Germain allora andiamo avanti vediamo ancora abbiamo poi decreti sì Lady Portia ha scritto Portia possiamo dire Portia o Portia vedete voi come vi aggrada di più è proprio la dea della giustizia è molto importante per quelli di voi che vedo anche nelle consulenze con me private ma in tanti motivi hanno bisogno di giustizia divina e non ok anche non anche per quella terrena lei proprio è ritratta in tutti i palazzi di giustizia è membro e portavoce del tribunale karmico e aiuta proprio le persone essendo un essere della fiamma violetta che hanno bisogno proprio di giustizia divina e terrena anche invocatela anche con i suoi decreti per far aiutare proprio delle cose per quanto riguarda la giustizia per far trionfare la giustizia sì questo per lei di Portia poi abbiamo gli Elohim Arcturus e Diana che sono appunto gli Elohim del settimo raggio che sono proprio la massima evoluzione del regno elementale come lo sono anche gli arcangeli per il regno angelico i maestri ascesi per quanto riguarda il regno umano vi ricordo che i maestri ascesi sono realmente vissuti e hanno veramente camminato su questa terra ok Arcturus e Diana sostengono il ritmo perfetto della vita in ogni sua manifestazione nel nostro sistema gli arcangeli di oggi del settimo raggio viola sono gli arcangeli Zacchiel e Ametista allora l'arcangeli allora sì l'arcangelo più conosciuto poi c'è anche l'arcangelina molti mi hanno detto non sapevo esistessero le arcangeline sì sono il complemento anche femminile dell'arcangelo per esempio lei la Ametista guarda caso che si chiama come la pietra concentra proprio parte della sua forza nelle Ametiste che sono proprio le pietre proprio della fiamma violetta usando proprio la pietra questa Ametista che si chiama come lei come l'arcangelina usando quindi l'Ametista e la fiamma violetta abbiamo proprio un collegamento diretto con questa arcangelina molto importante poi abbiamo il decreto da fare la madre mercede abbiamo anche che è una madre divina del settimo raggio e si occupa delle famiglie della nuova era quindi molto importante per chi sta mettendo su famiglia per chi vuole aiutare una famiglia di qualcuno di un figlio eccetera abbiamo anche il decreto per lei ve lo dico adesso perché dopo quando leggo le spiegazioni ve le faccio adesso preferisco fare i decreti in fila senza interruzioni il decreto della madre mercede è per portare in incarnazione un bambino della nuova era quindi se non lo dovete fare voi un bambino non lo fate questo decreto lo date a chi interessa magari avere una gravidanza avere un figlio oppure perché sapete essere già in gravidanza per aiutare a sviluppare poi quest'anima nel mentre di tutta la gravidanza proprio per essere un bambino della nuova era e tante altre cose quindi se non serve a voi non lo fate io ve lo leggo perché comunque se volete darlo a qualcuno è buono ok poi abbiamo la madre kuan yin molto famosa dea della misericordia e della compassione molto conosciuta in cina e in oriente c'è le sue immagini scrivono qua di kuan yin dappertutto in oriente e lavora proprio accanto a madre mercede e anche lei con i bambini della nuova era poi abbiamo madre iside che è un'immensa madre divina dea dell'amore e della magia rappresentazione del femminile sacro protettrice delle donne dei bambini delle curanderas attribuirle un solo raggio equivarrebbe a limitarne l'immenso splendore il complemento divino è Osiris sì Osiris allora poi andiamo avanti eh lord Saitrue Saitrue spero di averlo detto bene è proprio il uno dei direttori il manu della settima razza radice il padre dei bambini della nuova era quelli chiamati proprio gli indaco magari l'avete sentiti il cristallo gli arcobaleno no è proprio il padre questo Saitrue e la madre è madre mercede per più informazioni appunto comprate i libri leggete informatevi eh principe Euromasis il principe dell'elemento fuoco qui dice non si sa molto però è un diciamo un maestro molto molto importante perché lavora proprio bene molto col fuoco violetto col fuoco sacro è molto grato anche al maestro San Germen invita tutti gli studenti a praticare il fuoco sacro va bene per poter divertare proprio dei veri sacerdoti sacerdotesse del fuoco sacro poi abbiamo gli angeli della fiamma violetta e dicono qua che quando li invochiamo immediatamente arrivano questi questi migliaia di angeli della fiamma violetta e riempiono l'ambiente circostante con questo fuoco sacro poi abbiamo Kamakura e Senjensama che sono proprio due esseri cosmici del fuoco violetto immensi molto grandi sostengono il loro fulcro nel tempio della trasmutazione dell'illuminazione divina sul monte Fujirama in Giappone Sri Magra che è stato il primo signore del mondo lavora col primo e settimo raggio e purifica proprio col suo lampo di luce il piano astrale quindi ha un compito molto importante il piano astrale che può essere anche molte volte aggredito da cose esterne poi abbiamo ovviamente Melchisedec che è l'altissimo sacerdote del settimo raggio e esiste anche un antico ordine del sacerdozio che si chiama sacerdozio di Melchisedec la sua origine è di altri sistemi stellari ed è la parte del sacerdozio del fuoco sacro che combina la religione perfetta con la scienza perfetta Anuvà è un essere cosmico originario del pianeta Urano e canalizza proprio la luce di Urano che è un pianeta del settimo raggio del cerimoniale poi abbiamo l'amata Estesia che è una grande somma sacerdotessa dell'ordine cerimoniale e del ritualismo del fuoco sacro anche essa viene da Urano poi abbiamo un maestro misterioso chiamato misterioso maestro di Parigi è il capo del consiglio di Francia ed ascese più di 500 anni fa sostiene ancora il fulcro della volontà divina nella Saint-Chapelle situata in Il de la Cité il cuore di Parigi bene questi sono gli esseri conosciuti comunque del settimo raggio viola che adesso faremo proprio i decreti per loro e partiamo ricordo le note tonali volendo le potete mettere in sottofondo quando facciamo i decreti con il settimo raggio violetto settimo raggio viola giorno sabato raggio della misericordia appunto compassione invocazione trasmutazione liberazione leggete insieme a me oppure lo fate da soli amatissima presenza di Dio io sono in me oggi sono vivo grazie alla vita maestosa dono del padre se ieri ho commesso qualche errore invoco la legge del perdono e accetto in me la potente attività della fiamma violetta trasmutatrice oggi infatti nel mio magico cerchio di luce nel mio impenetrabile anello infuocato vi sono i doni di vita divina doni immacolati purissimi limpidi e senza macchia oggi posso convertirmi in quello che Dio ha disposto per me mio essere cristico in azione poiché io sono la coscienza cristica poiché io sono la coscienza cristica poiché io sono la coscienza cristica ora manifestata e sostenuta eternamente mantienimi avvolto in un pilastro di fuoco violetto che trascende ogni umana creazione dentro attraverso ed intorno a me o a ciò che si sta evolvendo cercando la redenzione mantienimi nella tua fiamma fin tanto che sarò asceso e completamente libero amato maestro San Germain amato Zachiel amato Arturo amata madre mercede e tutti coloro che disimpegnano un servizio nel settimo raggio vi amo vi benedico e vi ringrazio per il vostro grande servizio prestato a me e a tutta l'umanità nel nome della presenza di Dio io sono in me e per il potere magnetico del fuoco sacro investito in me come sacerdote o sacerdotessa dell'ordine di Zachiel faccio questa invocazione angeli del fuoco violetto angeli del fuoco violetto angeli del fuoco violetto venite 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 mantenete acceso il fuoco dell'amore liberatore mantenete acceso il fuoco dell'amore liberatore mantenete acceso il fuoco dell'amore liberatore nella mia aura nei miei sentimenti nel mio cervello nel mio mondo mentale nel mio corpo eterico in ogni cellula del mio corpo fisico nella mia casa nei miei affari nelle mie finanze e nei miei doveri fatelo per tutti coloro che vivono su questo pianeta fin tanto che tutta la creazione umana la sua causa e il suo nucleo siano dissolte e trasmutate in purezza e perfezione fin tanto che la nostra terra sarà realmente diventata la santa stella della libertà vi ringrazio per aver risposto a questa chiamata del mio cuore poiché il fuoco violetto dell'amore liberatore non fallisce mai poiché il fuoco violetto dell'amore liberatore non fallisce mai poiché il fuoco violetto dell'amore liberatore non fallisce mai nel produrre purezza e perfezione io sono questo fuoco violetto amato maestro asceso san germain e amata dea dell'opportunità a voi consacro la mia luce la mia vita ed il mio amore cercando di liberare gli impulsi di perfezione che ci sono dentro di me ve li consacro per poter aiutare nel portare presto la liberazione ad ogni parte di vita sulla nostra amata terra così sia amato maestro san germain cammina attraverso di me e irradia ovunque io vada la luce della fiamma violetta grazie padre e madre io sono la trasmutazione di ogni energia e creazione inferiore alla perfezione nella mia vita e nel mio mondo nel nome della divina presenza di dio io sono invoco l'amata ledi porzia affinché manifesti la giustizia divina in questa situazione grazie padre madre amata l'amata ledi porzia nel nome di dio io sono manifesta nella mia vita sempre nuove opportunità di crescita che mi permettano di concretizzare sempre più ampiamente il mio proposito divino grazie padre madre amati elohim arcturus e diana sincronizzate tutte le situazioni della mia vita con il ritmo perfetto dell'universo affinché manifesti solo armonia e perfezione grazie padre madre amati zakel e ametista arcangeli del fuoco violetto avvolgete questa situazione con il vostro mantello della trasmutazione e liberazione fino a che solo la perfezione vi si manifesti grazie padre madre amata madre mercede madre della settima razza ti chiedo nel nome della divina presenza io sono di aiutarci o aiutarmi a portare in incarnazione un bambino della nuova era e di darmi la saggezza e la provvidenza per farlo crescere in modo perfetto grazie amata madre divina amata questa notte mentre dormo portami con te nel tuo lago di luce liquida violetta e con le tue dame della misericordia ripulisci le mie memorie dalla negatività e trasmuta i miei fardelli carmici grazie padre madre amato principe oromasis nel nome di dio io sono aiutami a sviluppare l'amore e la maestria del sacro fuoco violetto grazie padre madre amati angeli della fiamma violetta avvolgete e riempite la mia vita con la fiamma violetta e trasmutate ogni situazione negativa in divina perfezione grazie padre madre io sono io sono io sono la resurrezione e la vita della misericordia e purificazione in azione dell'amato maestro asceso Saint Germain dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la resurrezione e la vita della misericordia e purificazione in azione dell'amato maestro asceso Saint Germain dentro il mio essere e nel mio mondo oggi Io sono, io sono, io sono la resurrezione e la vita della misericordia e purificazione in azione dell'amato Maestro Asceso Saint Germain dentro il mio essere e nel mio mondo oggi. Molto bene, ricordo le note tonali insieme a questi decreti o anche in due momenti diversi della giornata, vedete voi insomma quando avete bisogno, vi ricordo gli aromi, gli incensi di oggi sarebbe meglio, oggi quelli che ho indicato all'inizio, così come indossare queste pietre sempre indicate all'inizio piuttosto che altre sarebbe meglio, concentrarsi molto sulla fiamma violetta, su quello che è il suo potere e sul Maestro Asceso che adesso ha in carico questo grande lavoro da fare con noi proprio in questa età dell'acquario, in questa nuova era, è proprio lui il direttore di tutto, molto importante, che sta facendo un grande lavoro, grandissimo lavoro con molti di noi. Che dirvi, io vi ringrazio per il momento, andate a vedere tutta la playlist di tutti i raggi completi, a breve arriveranno anche i cinque raggi occulti, quindi vi invito ad andare a vedere proprio nella descrizione del video anche il link è diretto, così andate direttamente alla playlist, vi potete vedere tutti i raggi e cominciare veramente un lavoro molto importante come ci è richiesto proprio dai Maestri Ascesi da tanto tempo, il lavoro proprio sui raggi per incrementare, perché se no se vogliamo arrivare all'ascensione ma non abbiamo una consapevolezza di quello che abbiamo attorno al corpo, di questi sette raggi, di quanto possiamo svilupparli, l'ascensione sarà sempre più lontana, quindi comunque è un lavoro molto molto importante, tantissimo, molto importante questo lavoro proprio con tutti i raggi e potenziarli proprio attraverso questi decreti che facciamo, i lavori personali di concentrazione e meditazione proprio ogni giorno su quel raggio che corrisponde. Ricordo che tutti i raggi sono sempre attivi tutti i giorni, tutti quanti, va bene? solo che in un certo giorno è più attivo un raggio piuttosto che l'altro, così come gli esseri associati a quel raggio. Va bene? Vi ricordo sempre anche nel sito web trovate tutti i decreti proprio in fila come li abbiamo letti. Io vi ringrazio per oggi con questo stupendo percorso terminato, andatevi a vedere anche gli altri video di vostro interesse come le meditazioni e anche altri lavori gratuiti, decreti e codici sacri che trovate in questo canale e vi aspetto presto qui su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti e grazie! Grazie!